Ragazzi, mamma mia, il Genoa, appena sceso in Serie B, ufficializza a parametro zero il Sanker, incredibile, proprio lui, il centrocampista baramediano del Leintracht Francoforte, appena diventato campione d'Europa in Europa League, non ha rinnovato il contratto e praticamente l'ex Borussia Mönchengladbach, l'ex Lipsi e ormai ex Eintracht Francoforte sbarca a Genova in quel di Marassi per provare a riportare il Genoa in Serie A e secondo me ce la farà, perché, attenzione, il Sanker è un ottimo mediano, mamma mia